Oggi andiamo a vedere una lezione che si intitola Vieni o Benedetto che si è tenuta il 10 novembre del 1967 A volte scopro che do troppe cose per scontato Solo perché leggo le scritture tutto il giorno sono inclina a credere che la maggior parte delle persone lo faccia e non è così Ieri un dottore che viene qui da un po' è venuto a trovarmi e mi son reso conto che non mi son spiegato bene Così stasera cercherò di fare questa conferenza molto pratica ma la troverete profondamente spirituale Nel capitolo 25 del libro di Matteo leggerai le parole Venite o Benedetti del Padre mio ed ereditate il regno preparato per voi dalla fondazione del mondo Ora, tutto questo capitolo è composto da una parabola dopo l'altra Cominciò con le 10 vergine, sage e estolte Quindi viene raccontata la storia dei talenti e del loro uso o abuso seguito da questa dichiarazione Avevo fame e mi avete dato da mangiare Avevo sete e mi avete dato da bere Ero nudo e mi avete vestito Ero straniero e mi avete accolto Ero in prigione e malato e mi avete visitato Sorpresi di essere invitati a ereditare il regno preparato per loro Prima della fondazione del mondo Gli dissero Quando ti abbiamo trovato affamato e ti abbiamo dato da mangiare Assettato e ti abbiamo dato da bere Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo accolto nudo e ti abbiamo vestito E quando ti abbiamo visto ammalato e imprigionato e ti abbiamo fatto visita Ed egli rispose Come l'avete fatto al più piccolo di questi? L'avete fatto a me Ora, il mondo cerca qualche Cristo esterno Qualcuno fuori Supponiamo che in questo momento Qualcuno in questa comunità Non ci che Gesù Cristo un essere esterno e presente Lo sai che l'intero mondo sociale Si girerebbe per il privilegio di incontrarlo? Ci sarebbe una bella battaglia nel mondo per l'onore di dargli un pezzo di pane O un bicchiere d'acqua Per toccarlo o parlargli Perché cercano il Cristo sbagliato In verità vi dico Come lo fate a uno solo di questi ultimi? Lo fate a me Se tu avessi la possibilità di fare qualcosa per Cristo Non coglieresti l'occasione al volo Bene Ogni volta che fate qualcosa a qualcuno in questo mondo Lo state facendo a Cristo Credetemi Perché non può venire da fuori Visto che è dentro di voi Come disse William Blake Svegliatevi Svegliatevi voi che dormite nella terra delle ombre Svegliatevi Espandetevi Io sono in voi E voi in me Reciprocamente nell'amore divino Non sono un Dio lontano Sono un fratello e un amico Nel vostro seno Risiedo E voi Risiedete in me Ecco Noi siamo uno Ma l'uomo Non credendoci Gira per le vale oscure Cercando qualche Dio esterno Che lo salvi Così Dissi al mio amico dottore Ogni volta che sei in grado di aiutare le persone che vengono nel tuo studio Stai servendo Cristo Perché vedi Cristo viene travestito A volte indossò una maschera nera O una bianca O una gialla O una rossa A volte una malata Ora le scritture non menzionano alcun momento in cui Gesù era malato Eppure fa l'affermazione Quando ero malato mi avete visitato E anche se non dichiara che aveva sete c'è una registrazione in cui chiese da bere E quando la donna di Samaria disse Tu un ebreo Parli con me Un samaritano I giudei non parlano con i samaritani Allora Gesù spiegò la differenza fra le due acque dicendo Se tu me l'avessi chiesto Ti avrei dato Acqua viva Perché tu non abbia mai più sete Ora per la prima volta Gesù rivela chi è veramente Ed è a una donna Quando lei disse So che deve venire il Messia chiamato Cristo Quando è libera ci annuncerà ogni cosa Le dice Gesù Sono io che parlo con te La sua prima rivelazione è a una donna Ed è a una donna che appare per la prima volta alla fine È un legame che si dispiega in questo mondo Quindi se farete qualcosa a qualcuno Credendo di farlo veramente a Cristo Sarete stupiti di cosa accadrà nel vostro mondo Ora permettetemi di condividere con voi due storie Che mi hanno raccontato Quando sono tornato di recente dall'isola di Barbados Questo signore ha detto Un collega e io pranziamo quasi tutti i giorni insieme Per un po' ha passato l'intera pausa a pranzo A raccontarmi dei suoi problemi finanziari E sebbene io sembrassi interessato In realtà non lo ero E mi sono chiesto Come potesse credere alle cose che mi stava dicendo Dopo aver ascoltato le stesse storie più e più volte Ho deciso che l'indifferenza non era la risposta E che dovevo fare qualcosa a rigordo Così nel febbraio di quest'anno Ho iniziato ad ascoltare con il mio orecchio interiore Ho cominciato a sentirlo a dirmi Che aveva soldi a sufficienza Con molto da spendere Allora io qui farei un piccolo appunto Perché questa è una tecnica Di manifestazione per gli altri E non solo Anche per noi Perché puoi sentire qualcuno Che ti dice qualcosa a proposito Di qualsiasi cosa sia Che tu vuoi manifestare Perché questa tecnica Questo modo di manifestare Si applica a tutte le cose Non c'è nessuna cosa A cui non puoi applicarlo Ok Quindi Quando c'è qualcuno nella tua famiglia Che sta male Che ha qualche malattia Invece di sentirlo dire Continuamente che sta male E che gli fa male questo E che gli fa male quest'altro E che non ne può più E tutto quello che fanno Sai Non sappiamo come si lamentano Inconsapevolmente Giustamente Le fanno male E non sanno che più lo dicono Più stanno in quello stato Più occupano quello stato da malato Ok Quindi invece di sentirlo Con l'orecchio esterno Sentilo con l'orecchio Della tua immaginazione Cioè quello interno Immagina Che ti dice che stanno bene Che non sono mai stati bene così Che non sono mai stati ricchi di così Che non hanno mai avuto Una casa più bella di questa Che non hanno mai guadagnato così tanto Che i loro affari Non sono mai stati così proficui Che loro non sono mai stati Così innamorati Della vita Che non hanno mai visto cose così belle Questa è una tecnica Bellissima Fatelo per gli altri Perché lo fate a Cristo Perché ognuno di noi È un Cristo Con una maschera umana È un Dio È lì stesso È un Cristo Ma non lo sa di essere Ma non lo sa di essere Pensa di essere questo personaggio Questo corpo Questa personalità Pensa di essere ciò che vede allo specchio Non rendendosi conto Che non è così Sentite cosa dice A maggio mi ha detto Di aver ricevuto un'eredità Non ha detto quanto Ma la prima cosa Che ha fatto È stato Comprarsi Un Cabinato Con quattro posti letto Poi ha mandato il figlio maggiore Al college Ha fatto grandi riparazioni A casa sua Si è comprato Un nuovo guardaroba È una nuova macchina Ma Cosa più importante per me Ho scoperto Che la mia consapevolezza Ha potere Che L'indifferenza non basta Devo agire E il mio amico Ha agito E come ha fatto A uno di questi ultimi L'ha fatto a me Poi ha raccontato Ogni settimana Mi faccio Tagliare i capelli Da un certo barbiere Anche se Mi sono trasferito Ho continuato ad andare Nel suo negozio Ogni sabato Finché Un giorno Non è stato chiuso Decidendo di cercare In zona Ho trovato un negozio Con quattro barbieri E mi sono seduto Sulla sedia Del proprietario Ogni settimana Indipendentemente Dalla mia richiesta Non mi toglieva Abbastanza capelli Quindi dopo aver Guardato Gli altri barbieri Ho deciso di passare Al numero 4 Se sai Qualcosa Di un negozio Di barbiere L'uomo numero 4 È l'ultimo arrivato E si sta facendo strada Per arrivare Al numero 1 Mentre Sedevo Sulla sua sedia Gli ho chiesto Se gli piacesse Fare il barbiere Lui ha risposto Che gli piaceva E che gli sarebbe Piaciuto andare In una scuola Di barbiere Riconosciuta A livello internazionale Una volta Che ho scoperto Che voleva davvero Non essere Solo un barbiere Ma essere Il miglior barbiere Possibile Ho iniziato ad ascoltare Con il mio orecchio Interno E l'ho sentito Dermi Come si era Diplomato Alla scuola E quanto Aveva imparato E lo sai Non solo è andato A scuola Ma era il migliore Nella sua classe Poi ha comprato Il locale Ha cambiato Il personale E ha persino Un receptionist Per rispondere Al telefono Adesso lo vedo Tutti i sabati Alle 11 Su appuntamento Ecco un uomo Che ha visto Cristo Uno di questi più piccoli E lo ha vestito Del suo desiderio Ha nutrito Il suo desiderio E gli ha dato Da bere L'acqua viva Attraverso L'uso Della sua immaginazione In questo mondo Sono necessari Tutti i tipi Di servizi E se non ci fossero I barbieri Ma solo gli epi Tu dovresti Tagliarti i capelli Da solo Supponiamo Che non ci fossero Camerieri O signore Disposti a pulire Le nostre case Loro sono Cristo Ogni volta che Doris Viene a pulire La nostra casa Cristo entra Dalla nostra porta Un giorno Mi ha raccontato Di un amico Che ha avuto Un incidente Non si è fatto male Ma l'auto si Poi ho detto Doris Puoi sempre comprare Una macchina nuova Ma il tuo amico È stato creato Da Dio Quindi Rallegrati Perché non è stato ferito Sai che quel pensiero L'ha cambiata completamente Frequenta la chiesa cattolica Ma non è mai stato detto Che Dio L'ha creato Perché l'amava Che non ha mai fatto Una cosa Che non amava L'uomo fa le automobili E può sostituirle Ma nessun uomo Può sostituire Doris Ecco quanto è preziosa Agli occhi di Dio Quindi Qui lascia che ti dia I benefici collaterali Di pregare Per un altro Mentre il mio amico Immaginava Queste cose Adorabili Per il suo collega E i suoi tre figli Sono stati nominati Beneficiari Di una proprietà Di un uomo morto Nel 1890 La tenuta era In contenzioso Da oltre Settant'anni E solo ora È stata liquidata Come Giove Prega per i suoi amici E la sua prigionia Fu revocata Se solo potessi Farti capire Che abiti in tutti Che ti guardi Sempre spinto fuori Incapace di vedere Un altro Ogni essere nel mondo Sei tu stesso Reso visibile Quindi se non vedi Il Cristo in un altro E stai solo Nutrendo il Cristo Allora non sai Chi Io sono Dio stesso Entra nella porta Della morte Con chiunque vi entri E Si sdraia Nella tomba Con lui E condivide Le sue visioni Dell'eternità Finché non si sveglia Vede Gesù E le vesti di lino Che le femmine Hanno tessuto per lui Alla porta Della casa Del padre William Blake Dio stesso Il cui nome E io sono E' entrato Nella porta Della morte Perché tu Possa respirare Essere consapevoli E dire Io sono E questo E Dio Non lo troverai Non lo troverai mai In nessun cimitero All'esterno Perché Dio La tua stessa Meravigliosa Immaginazione umana Si è posato Nel tuo cranio Per condividere I tuoi sogni Di eternità Fino al tuo risveglio E quando lo farai Vedrai Vedrai i vestiti di lino E capirai Chi sono Tu non vedi Gesù Come un altro Ma lo conoscerai Come te stesso Quando il figlio Unigenito di Dio Ti chiamerà Padre Ve lo dirò Prima che avvenga Finché quando avverà Sappiate Che io sono Nel padre mio E voi siete in me E io sono In voi Leggi questo Nel capitolo 14 Del libro di Giovanni Ebbene Se io sono Nel padre mio E tu sei in me Allora non sei Nel padre mio Ora ci dice Nel decimo capitolo Di Giovanni Che io E mio padre Siamo uno C'è un solo padre Un solo corpo E un solo figlio Non c'è un gruppo Di piccoli Davide In giro O un gruppo Di piccoli padri Ma solo il padre Quindi se Davide Mi chiama padre E c'è un solo padre E lui Chiama padre Anche te Non siamo noi L'unico padre Perciò vi dico Questo prima che avvenga Finché quando avverà Possiate credere Che io sono il padre E poiché voi Dimorate in me Quando avverà in voi Direte Io sono lui Col tempo Tutto il vasto mondo Si risveglierà A questo meraviglioso piano E allora avremo Esteso il nostro potere creativo Oltre quello Che era Quando abbiamo concepito Il piano E siamo entrati Nella porta Della morte In questo limite Di contrazione Ora Non posso dirti La mia emozione Quando in questo Piccolo pubblico Qualcuno crede Così tanto A quello che ti dico Che la porta Nelle profondità Dei tuoi sogni Come ha fatto Come ha fatto Questa signora Incontrando In sogno La madre Del suo ragazzo Le è stato chiesto Cosa ne pensi Di Dio E lei Rispose Cristo non è Esterno È dentro di te Quando porti Questa verità Nel sogno Dove l'attenzione È serva Della visione E non la sua padrona E rispondi E la riporta La tua mente Superficiale La tua convinzione Nel profondo Del tuo essere Ora Un tizio Che viene Da poco tempo Mi dice Che nel suo sogno Sta cercando Qualcuno Che è molto importante Per lui Vedendo Una folla Di persone Che discutono Qualcosa Vede il gruppo Separarsi E un giovane uomo In piedi Da solo Indica Verso di lui E dice Tu sei il padre Ora Questa è una Prefigurazione Non è l'evento Ma una sua Prefigurazione E il solo fatto Che abbia visto Il presagio Indica Che non è lontano Quindi non posso Dirti la mia emozione Mentre guardo Questo pubblico Perché vi state Risvegliando tutti Posso dirti Tutto ciò Che potresti Desiderare E proprio qui È pronto Per essere preso E mio amico Ha pregato Per il barbiere E il suo collega Mentre i suoi figli Sono diventati Beneficiari Di una proprietà Che era stata Oggetto di Controverse Per molti Anni Questa è la storia Di Giove L'ultimo capitolo La fine del viaggio La rivelazione Delle scritture Potrebbe Giungere a lui All'improvviso Ora Com'è caduto A tre di noi Presenti Questa sera Giunto alla fine Del viaggio Nel mondo Della morte Tutto il male Che il Signore Aveva portato Su Giove Fu rimosso Come ci viene detto Nel capitolo 9 Di Giovanni Quando fu Posta la domanda Chi ha peccato Questo uomo O i suoi genitori Visto che è nato cieco E venne la risposta Né questo uomo Né i suoi genitori Ma affinché Si manifestino Le opere del Signore Tutto si è svolto In perfetto ordine Anche se non ha fatto L'esperienza mistica Della nascita dall'alto E è arrivata La fine del suo viaggio Ora poco prima Che salissi sul palco Una coppia è tornato Per dirmi Che in sogno Il nostro amico Ian Gli ha detto Non tornerò più Lei non l'ha Riportato indietro Ma lui l'ha fatto Nel profondo Ian gli ha detto Che non sarebbe tornata E questo significa Resurrezione Nel capitolo 20 Di Luca Viene posta la domanda Di chi sarà la moglie Nella resurrezione E lui rispose Tu non capisci Le scritture In questa età Si sposano E sono dati In matrimonio Ma quelli che sono Ritenuti degni Di raggiungere Quell'età Non si sposano Ne sono dati In matrimonio Perché non possono Più morire Sono figli di Dio Essendo figli Della resurrezione Nel profondo Della sua anima Ha raccontato A colui che l'ha sentito E lo ha portato In superficie Per condividere Con sua moglie Così Ho visto L'uomo interiore Si sta risvegliando Quindi Non importa Come appare Il mondo esterno O cosa fa L'uomo esteriore Va avanti Per sempre Perché fa parte Di quest'era di morte Ma come ho detto prima Chi non darebbe Il proprio bacio Destro Per servire Gesù Cristo Non pensi Che se il nostro Cardinale Sapesse che Gesù È in città Vorrebbe Intrattenerlo E metterebbe Gesù A capotavola Dicendo Il Signore è qui Eppure Passerebbe davanti A uno che ha bisogno Non dare soldi A coloro Che vedi nel bisogno A meno che Tu non voglia Che rimangano lì Bisognosi di soldi Invece dai loro Ricchezza Nella tua immaginazione E mio amico Non ha dato All'uomo Un centesimo È ereditato La sua ricchezza Ma Fece all'amico Il dono Del suo talento Moltiplicandolo Egli è tra Coloro Che sono Chiamati O benedetti Dal padre mio Venite A ereditare Il regno di Dio Come mai Perché ha dato L'unico talento Che Dio L'ha dato Ed ha dato Da mangiare All'affamato Ha dato Da bere All'assettato E ha vestito Gli ignoti Quando il suo amico Era finanziarmente In prigione E malato Di cuore A causa Della sua limitazione Non gli ha dato Un michelino Ma esercitando Il suo talento Dato da Dio Lo ha moltiplicato Questo è ciò Di cui sto parlando Usa il talento Che Dio Ti ha dato Non sepenirlo Per paura Di testare Il suo potere Esercita Un talento E mentre lo fai I tuoi cinque Erano dieci Se puoi usare Solo due Usali al meglio Delle tue capacità E aumenteranno Allora sarai Molto lodato Perché non sei chiamato A condividere Fisicamente Con gli altri Ma a usare La tua immaginazione E vederli Come vorresti Essere visto tu Se fossi Nella loro posizione Se tu fossi Nel bisogno Non apprezzeresti Che qualcuno Immaginasse Che tu sia Benestante Questo è quello Che ha fatto Il mio amico Ed è quello Che vi chiedo Di fare Prendimi sul serio E usa il tuo Meraviglioso talento Dalla parte giusta Ci viene detto Che come un pastore Separa il grece Ponendo Le pecore a destra E le capre a sinistra Così il nostro Padre celeste Separerà noi Si dice In modo aspro Che quelli di sinistra Non hanno applicato I loro talenti E sono quindi Condannati All'inferno eterno Ma questo significa Semplicemente Che quando Sembra Che muori qui Entri nello stesso Mondo E continui Finché non prendi Finalmente Il talento E lo usi Tutti moriranno Questa è la più grande Certezza del mondo Se dici a qualcuno Se dici a qualcuno Che sta per sposarsi Che saranno separati Nella morte Penserebbero Che tu sia orribile Quindi Noi lo dici Ma quando mori qui Vieni immediatamente Restituito alla vita In un mondo Proprio come questo Anche se puoi Anche se puoi aver Dato un milione Di dollari A una chiesa O un museo Perché questo Non è usare Il tuo talento Quando tratti Qualcuno Come Cristo Lo fai a me E che gioia Proverai Mentre lo fai Così Ho detto Al mio amico Il dottore Indipendentemente Da chi passa Attraverso la tua porta Che sia L'uomo più ricco Della città O il più povero Trattalo come Se fosse Cristo E guarda Cosa succede Nel tuo mondo Quando entri Nel bisogno Quando l'hai visto In un altro E quando l'hai visto Assetato Affamato In nudo E non l'hai aiutato Allora non hai aiutato A me È così semplice Se metti la mano in tasca E gli dai qualcosa Molto spesso Stai semplicemente Perpetrando Un barbone Ma quando pensi a lui Ben vestito Ben estante Sano di mente Di corpo È allora Che l'hai fatto A me Lo stai facendo Solo a te stesso Davvero Perché Cristo È la realtà La vera idea L'identità Di ogni essere La prostituta È Cristo Che si guadagna Da vivere Invece di condannarla Sollevalo Con l'occhio Della mente E guardalo Benestante Può ancora Recitare La stessa parte Se lo desiderà Ma portala fuori Dalla grondaia E ricorda Dio sta facendo Tutto ciò Che fa l'uomo Perché Dio È un uomo E non c'è nient'altro Che Dio Nel mondo Quando lo vedrai Vivrai Secondo esso E cambierai Il tuo mondo Fai quello Che ha fatto Il mio amico Riguardo al barbiere Prima si è assicurato Che l'uomo Volesse fare il barbiere Poi ha sguinzagliato La sua meravigliosa Immaginazione umana Vedendolo avere successo Desiderando un barbiere Nel suo quartiere In modo Che non dovesse iniziare A cercarne un altro Lo ha ancorato lì Ora l'uomo Possiede l'attività Ed è il negozio Più frequentato Della città E il suo collega Ora Parla del suo Fine settimana Sul cabinato Della sua Nuova auto O dalla sua festa Che ha avuto Nella sua casa Allargata Perché Queste sono le cose Che il mio amico Gli ha dato E l'uomo È totalmente All'oscuro Del donatore Ora entriamo Nel silenzio Io mi fermo qui E vi aspetto domani Con una nuova Emozionante lezione Grazie Ciao a tutti Grazie